Salve a tutti in Endavio Johnny Petron David E bentornati in Fire Emblem Ecos Saludos of Valencia Da quanto tempo? Il ritorno Più incredibile e inaspettato Della storia Del trio dinamico Ecco Il trio dinamico No Non ci ho dimenticato, stavamo qui No, io non me lo sono dimenticato perché Non può lasciare a mia mente questa mappa Ma davvero Avevamo scoperto Della porta, mi raccomando Sì, avevamo scoperto della porta e avevamo scoperto anche Che voi e Mei sono Gli unici praticamente che possono danneggiare Il boss, forse anche Sonia Quindi la mettiamo avanti Pegasi Stanno bene Cioè io recentemente ho giocato a Fire Emblem Three Houses E tipo madonna la qualità di mappa tra quello e questo Ma mio dio E non è un bene perché Three Houses non è proprio l'esempio Di mappe fatte bene E' bello Mi ci sto trovando decentemente Sono ancora al capitolo 10, forse 9 Sì, sono molto lento E sei alla prima Rana ancora Sì, sono ancora con la casa di Dimitri Ok Mi sto affezionando a tutti gli studenti e al monastero Comprensibile, anch'io lo facevo in quel periodo Diciamo, le mappe Quello che dico io delle mappe salta fuori un po' dopo Eh sì, mi sembra di averne sentito parlarmelo Vabbè, ma comunque non sono Cioè non l'ho trovata così terribile No, neanch'io penso che siano terribili Il discorso è più che altro di varietà Cioè rispetto a questo gioco Tutto è È vario No, tutto è un netto miglioramento Cioè Questo gioco le mappe varie ce l'ha Solo che fanno tutto è schifo No, non è vero, sono varie Intanto i layout sono diversi Quello è innegabile Questa mappa non è come quelle altre Ah, è questa, non è come quelle altre Però ti faccio notare che il fiume Ok La pianura col fiume l'abbiamo fatta tipo due o tre volte Vero Sì, però magari c'è un ponte ogni tanto che cambia Non lo so No, 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 no No, quella è sempre uguale Però Sempre un miglioramento Secondo me Cioè da questo punto di vista Anche il gameplay sinceramente Sai avere più di una sola arma da poter usare Eh sì E poi per uno come me Una droga lì Alzare il livello delle armi Madonna L'odoro troppo Sì Io per esempio lo facevo tanto con gli esami Perché volevo le classi Di livello più avanzato Mi ci è voluto un attimino a capire come funzionava È un po' complesso all'inizio Una curva di apprendimento Eh sì perché è diverso da tutti gli altri I battaglioni soprattutto I battaglioni la cosa più difficile è stata per me da imparare mai in tutta la serie Non ho scoperto neanche delle sculture nella cattedrale fino a tipo capitolo 6 Che mi aumenta i battiti divini Ci cammino un giorno a caso e dico Ah ma dai ma qui succede questo Ok Buono a sapere sì Oh io non so perché questa mappa va peggio del previsto Cioè peggio del solito Vabbè peggio del solito abbiamo appena riniziato questo tentativo Mi ricordo invece Su Engage che devo ancora fare un video di Eh sì perché qualcuno appare sulla scommessa Mi ricordo che Regalavo la gente la merda E legalati alla gente? Ah sì letame E non capivo E non capivano Ma non ti piace Io pensavo fosse tipo Perché non Perché in inglese lo chiamavano Horse Manor Sì E io pensavo fosse tipo Cioè non sapevo la traduzione giusta di meno Pensavo fosse tipo una statua Eh ma dai Diffico il fatto di non si vede Cioè non mi aspettavo che Non mi aspettavo Che effettivamente Cioè Se dici Cioè c'è della merda per terra Non è che la raccogli Eh infatti Il lì sì A quanto pare sì Quindi Cioè Non sono io il tipo strano È Alear Il tipo strano Sì sì Figurati perché Tu non costringi Alear A regalartela Sei tu come giocatore però Che gliela fai regalare agli altri Eh ma non sapevo cosa fosse Ma voi a questi due giochi della Switch Avete giocato in inglese o in italiano? Io a 3 houses sono giocato in inglese 3 houses in italiano Eh io il contrario Come mai in inglese Vi è capitato? Ehm Come dire Diciamo che io ho ricevuto Una copia di Engage Prima del tempo Uh Minchia che VIP Che abbiamo qui con noi Davio Eh? Mera quando non temo andare troppo E che Direttamente da Nintendo L'ho ricevuta Ah ah E quindi Era in inglese Ah ah Guardate E tu Davio Qual è il tuo motivo? Volevi in inglese tanto per? Sì più che altro Io solo di recente ho iniziato di nuovo a giocare in italiano Io avevo una preferenza per le versioni inglese soprattutto di recente Perché le trovo strane molte traduzioni in italiano Comprensibile Ovviamente da quando traduco anch'io Le cose sono un po' cambiate Le uso anche come ispirazione a volte No io preferisco giocare in inglese Ma se c'è l'opzione dell'italiano Sinceramente non mi dispiace Mi da un senso di comfort o qualcosa Veder le cose scritte Comfort è anche tipo Stranezza Sì per esempio a Paper Mario Adesso io sto rigiocando a tutti i Paper Mario no? E quelli Incluso Sticker Star No Sticker Star l'ho lasciato fuori per il momento Poi Però con lo Splash si Ma mi sa che Sticker Star farebbe Nel lasciarlo fuori per sempre Sì diciamo è particolare come gioco Molto particolare C'è un design Madonna Io più che particolare Direi che fa caccare Anche due Ma caccare c'è Se c'è qualcuno che all'inglese non gli interessa Sinceramente è più accessibile per loro Eh ma non è quello il problema C'è anche se c'è gioco in inglese Non migliora No parlavate di Sticker Star è vero scusa Scusate Pensavo Siete fusi ragazzi Eh sì Noi No Sticker Star fa cagare in qualunque lingua Diciamo che anche Color Splash È un netto miglioramento intanto È un netto miglioramento però Cioè diciamo non è ancora a livelli ottimi però Un minimo di gioia te la dà Sì Anche se non ci sono i punti esperienza almeno c'è la pittura che sembra Fa finta di esserlo Sì ma c'è quella Ammirate Quest'uomo Che gioia Pazzesco Che grande Oh E Cioè il mio problema Un parassita in meno Subito Un parassita in meno Bravo copia i miei vocaboli Eh sì È un peccato allontano Vabbè ha subito solo uno Cioè il problema è che purtroppo Nintendo ha Quell'idea stupida con Mario Di non Di non essere più creativo Ma no Ma magari con remake recente del portale millenario migliorerà Non lo so Oppure solo un'opportunità per togliere soldi ai fan Nostalgia Eh infatti Io non lo considero tanto come un Come un miramento da quel punto di vista Perché Cioè non conta come un nuovo gioco Ma no che non conta come un nuovo gioco Cioè però Cioè però Hai un problema diverso con i remake madonna Sì Secondo me però Deve essere il segnale che Devono tornare un po' a quel A quel tipo di gioco per Paper Mario Sì ma capaci che semplicemente Vedranno che vende E diranno Ti abbiamo fottuto i fan del gamecube ancora una volta Per quanto io penso che The Origami King Sia comunque un miglioramento di nuovo Rispetto a Color Splash Sì ma Avevamo qualità all'inizio della serie Che cacchio Ci accontentiamo noi Di miglioramenti Eh infatti Allora Giusto per Dire l'ordine in cui ho fatto queste cose Io ho fatto il remake Del portale millenario Poi l'originale Per la prima volta Quello del 64 E poi Color Splash E The Origami King Ah quello del gamecube E la Wii Le hai saltati Quello del gamecube Del gamecube Ho il disco originale Però Avevo fatto il remake Quindi Non serviva Super Paper Mario pure Ce l'ho Non su disco però Su un altro tipo di disco Interessante Sì Definizione Sul drive Eh volevo dire C'è nel senso Sì Proprio il backup pronto Nel caso in cui Si è visto su google drive Sì nel caso il disco Mal funzionasse O il bugino No glielo restituirebbe Eh Racconta L'hai giocato Quello della Wii o no? Sì Ci ho giocato in passato Non ci ho giocato Ah ok Non adesso Io l'avevo completato Al cento per cento Mi Anch'io Quello della Wii Madonna Mi divertivo a girare Da piccolo lì E anch'io lo farei Al giorno d'oggi Perché Quella delle mappe del tesoro Era una bastardata Perché faceva in modo apposta Che tu non avessi mai Abbastanza soldi Per comprarle in una volta Ok Apriamo Qui Il tizio di svolta Di qua Mamma mia A voi C'hai qualche problema Si chiama lentezza Forse Cioè Non si può Fà così Poi ti dico Cioè Impressionante Però in realtà All'epoca in cui ho giocato A Super Mario Io non completavo i giochi A quel livello Quindi non ho Non ho mai approfondito Quella cosa Beh Dipende dal gioco Cioè Non è che Allora Adesso io per esempio Completo Giochi di qualsiasi tipo Non è un problema Per me A meno che non sono Tipo Tales of Destiny 2 Che a giocare A essere giocati Anzi Sono Una tortura Ma perché Hanno qualità di vita Pessime O sorripetitivi Ok Più che altro È il sistema di battaglia Se il sistema di combattimento È complicatissimo A un certo punto Tu dici Ok Forse non è il caso Di completarlo Al 100% Io invece di recente Ho visto un paio di video Su Youtube Che dicono Che Pokémon Non può sperare Di competere Con Fire Emblem Perché una volta che impari Un gioco di Pokémon Le hai imparati tutti Invece Fire Emblem Per design È sempre vario Ogni volta Allora Da un certo punto di vista Posso capire Che cosa intende Però È anche vero Che Pokémon È un altro Cioè È proprio un altro Tutto di gioco In che senso Competere Nel senso Per il giocatore Che ci torni a giocare Più volentieri Nel senso Ma Cioè A livello di game design Magari Non Di sicuro A livello Di vendite Ok No Vendite no È al design Proprio Soprattutto di questi tempi Io sarei perfettamente D'accordo Con una cosa simile Però C'è C'è poco Che Che riesce A A Essere peggio Di Pokémon In termini di design Questo ho appena fatto Un critico Sulle vocazioni Sì Ho visto Povero Povera illusione Ma è che Farembre È vero Cioè Minchia Con ogni gioco Che esce Continua sempre Ad evolvere O a provare Nuove idee Sì Anche se magari Non tutte funzionano A volte però Sì Perché farembre Ma è una formula Che bene o male Puoi Puoi farci cose Pokémon Sì Puoi aggiungere meccaniche Puoi Che ne so Inserire il Rescue Dropping Giusto per Nominarne una Dovresti A me da Pokémon Io mi accontenterei Di stile nero e bianco Con Trama che si prende Abbastanza sul serio Che ti dà un motivo Per andare avanti Anche che non sia Buggato al massimo Però oramai Fai random resto Io O Pokémon Vabbè Io diciamo che Con Pokémon Non ho mai avuto Un rapporto particolare Quindi La mia prospettiva È diversa Per forza Rispetto a quella Di altri Ah è vero Che ce l'attacco a triamo Io ho giocato Tanto Quando ero piccolo Però Anch'io A un certo punto Sono anni Che non lo tocco A un certo punto Sai Le persone crescono Sì Purtroppo Non tutti Nel senso Che ci sono Tutti Che ci giocano O come Sì No Perché C'è Sì Una buona idea Davio ha inizio mappa Replay Quando ha detto Che Bowie È uno dei pochi Che riesce a fare qualcosa Allora Ci riesce Se sopravvive Ah Ok Diciamo che io Oltre A Cioè Non riesco a capire Che cosa la gente Ci trovi in Pokémon Oltre all'attaccamento Infantile Cioè È proprio una cosa Sì Sono D'accordo Con Se mi parli di Final Fantasy Mi fa caccare anche lì Il gameplay Di Final Fantasy Però almeno Certo Beh lì Ci sono quelle trame Ci sono Delle cose Comunque Cioè Ci sono altri aspetti Che magari Uno può apprezzare Luigi che apprezzo Di Final Fantasy Un po' Mi cado con le balle Però Sì Inoltre Ha anche la caratteristica Che sono tutti Un po' diversi Sì Tutti un po' diversi Nel male Però sono tutti Un po' diversi Però Però Raffetto Lì Almeno c'è una trama Che Cerca di essere solida Cioè Si Si può addirittura Apprezzare Si Magari Un po' addirittura Apprezzare Se non sei tipo Final Fantasy 8 Tradotto in inglese Nella Fantasy 8 Io ci ho provato Io avevo appena finito Il 7 L'ho detto Questo tipo 12 anni fa Sono appena finito Il 7 E ho detto Ah Il 7 Mi è piaciuto Il gameplay Mi ha fatto cacare Però la trama è bella Giochiamoci anche L'8 Inizio Chissà come hanno migliorato Il gameplay Sono riusciti a peggiorarlo E io ti do Ma eh Chiedo anche di che parli Però mi immagino La delusione Allora Ma allora Ti spiego in base Il problema Ok Su Final Fantasy Di solito tu hai il mana Per castare le magie Ok Si Forse anche sull'8 Ce l'hai Non mi ricordo No non ce l'hai No non ce l'hai Ok giusto Beh giustamente Cioè funziona solo tramite il sistema Che stai Sull'8 non ce l'hai Perché sull'8 Tu le magie Le assorbi dai nemici Ok Ah ok Cazzo è traccia con gatturare Eh Ni Perché tu puoi assorbirle all'infinito Durante una battaglia Ah Cioè c'è il mostro di fuoco Cioè la prima Cioè Le dovresti assorbire all'infinito Che comodo Che tu arrivi Davanti al nemico Che non ti fa un cazzo di danno E sorbi Cento Con ogni personaggio Cento volte la magia E te E te la tieni lì Quindi diventa troppo forte È noioso Ecco E quella magia Che oltre a tutto Poi puoi spammare Perché lei è sorbita Cento volte E ti basta al massimo Rifarmarla Puoi assegnarla Per aumentarti Delle statistiche Ah madonna E tu non hai nessun motivo Per non farla Questa cosa No Non è che non hai nessun motivo Per non farla Questa cosa È che tu la devi fare Perché è l'unico modo In cui ti crescono Veramente le statistiche No Ma sembra bruttissimo Ma è bruttissimo Eh È terribile Mi trovo d'accordo Nonostante Pensi che comunque Ci siano Delle parti buone In questo In quel gioco Comunque Non valgono Secondo me La pena In questo modo Una roba Allucinante Concertualmente I giochi di rollo Dovrebbero capire L'esperienza È stata inventata Per un motivo C'è un motivo Se la gente piace Smettetela di sperimentare Con robe alternative Ma vabbè Ma Puoi sperimentare Con robe alternative Lasciate L'esperienza Dentro Già Ma c'è l'esperienza Ah ok Cioè Comunque sali di livello Però Non ti danno Non ti danno Un gran miglioramento Di statistiche Quindi c'è Zero soddisfazione Comunque Tanto vale Non ci fosse Non ci sia Vabbè Non è che Negli altri Final Fantasy C'è chissà quale Soddisfazione Salire di livello Sì Però comunque Diciamo che Cresci di più In altri giochi Rispetto all'otto Sì ma l'otto Cioè Il mio problema Con l'otto Io ci ho provato L'ho iniziato Ho detto no Sta roba Non si fa Il mio problema Con l'otto È più che altro Non tanto quello Che vabbè Ok Magari da giocare È strano Ma il discorso È che nella storia L'hanno fatta L'hanno tradotta Tutta in modo strano In modo in cui In modo in cui Si comportano i personaggi È incomprensibile In diversi punti Cioè tipo Il protagonista All'inizio È come se Non dovesse essere Un personaggio Come si può dire Un personaggio positivo Perché è introverso Non parla con nessuno Praticamente E poi Con il tempo Si apre un po' di più Ma il discorso è che Si apre Sempre per Per forzatura esterna Praticamente Ah non sembra guadagnato Cioè si È come se Fosse forzato Dagli altri A A cambiare E in particolare Dal personaggio femminile Principale Rinoa Per come è stata scritta In inglese Secondo me L'hanno fatta malissimo Poi in giapponese Risulta che sia migliore Stando a persone Che ci hanno giocato Io Non ho giocato A quella versione Quindi non posso Confermare E negare Però diciamo Non mi supirebbe Perché Final Fantasy All'epoca In inglese Aveva qualche problema Vedi il 7 Ma il 7 Non è tipo Tre più apprezzati E dai però Catrian Si È tra i più Apprezzati Io rinuncerei A tenere le sorelle Lassù È tra i più Apprezzati Il discorso Però è che È che la traduzione Non è di qualità Ah ok Non me l'aspettavo C'è una traduzione Del 7 La traduzione in inglese Ah ok Eh C'è Per esempio La traduzione in inglese Ha delle scene Che Traducono Molto male La storia Di alcuni personaggi Ho passato Ok Si sono io che Lo so anche in parte Perché Conosco persone Che lo conoscono Molto meglio In inglese Purtroppo Passammo un'ora In questa mappa E non riuscimmo A raggiungere Alcun risultato Io mi trovo Costretto a valutare Altre opzioni Abbiamo capito Che il discorso È di livello Di alcuni personaggi In particolare Lui Saber Lui sta a posto Saber Forse anche Est Un po' Io andavo ad allenare L'unità E una settimana dopo Ci rincontrammo Allora Adesso è iniziato Davvero il gameplay Si Perfetto Allora posso finalmente Fare Prima che tu faccia La domanda a Johnny È passato un pochettino Di tempo Dalla registrazione precedente Noterete che abbiamo Delle unità Un pochettino Più potenti Però Lo vedrete Nella No Davio ha fatto grinding Si No Cioè contro questi qua Che altro dovevo fare Quello è vero Sto gioco Lo richiedo Migliorare Migliorare sto gioco No Anch'io ho dovuto fare grinding No vabbè Sono andato a vedere A prendere qualcuno Cioè alla fine ho preso Quattro livelli Io penso che L'unico grinding Che ho fatto su sto gioco È solo per prendere Le rame leggendari Tipo La Gladilus La Falchion Quali sono state lì Anzi tipo Tre livelli Abbastanza da mettere Cadrea Cavaliere Falco Ma io Penso di aver Se ho grindato L'ho fatto Solo per allenare Un'unità E beh In questo caso Serviva Se Iber È diventato Portempesta Volevo solo Trovare le armi Legendarie Bassi E Lione È diventato Galeria Che poi fanno cagare Finché non li forgi bene Va bene Comunque dicevamo Passando le cose importanti È il momento Di una domanda Per Johnny Petronell Che tutti quanti Nel Gli spettatori E soprattutto io Che sono quello importante Ci stiamo chiedendo Sì mi piace Che fai random Petronell Cosa vuol dire Ah è il nome rumeno Per Pietruccio Pietruccio Esatto Quindi possiamo chiamarti Pietruccio Se ti fa sentir bene Rivida E puoi fare qualche guai Ma chiamatelo Giovanni Petrusco Cosa Come mai questa curiosità Perché dovevamo Italianizzare Tutti i nomi Dovete togliere Ogni traccia di rumeno Che c'è Come abbiamo Italianizzato Antonio Italianizziamo anche te Ma Antonio Si chiama Antonio Mi sembra Antonio non si chiama Antonio Io che mi chiamo Antonio Come ti chiami Antonio Eh Silvio no Io mi chiamo Antony Eh ti chiami Antonio Non Antonio Antony Antony Oh Il momento di evocare No ancora Ma è sempre il momento di evocare Prima sulle imprendizioni Siamo nelle scale E poi evochiamo Che qui abbiamo Guardate qua Notate Saber Che c'ha Non solo resistenza 5 Ma anche Di mezzo ai danni La magia Quindi Si potrebbe tornare più comodo Eh Contro quello là Contro i bantani qua Bantani Leave them to me No comunque lo chiedo Perché un mio mio iscritto americano Pensavo che Petroner stesse per una pistola E sono andato a fare su Google ed è vero E non lo sapevo Perché proprio l'americano? Cosa? Perché proprio l'americano? Ma no dai poverino Sa la sua lingua visto che è una pistola Mi chiede Ora devi mettere Come profilo devi metterti Todd con le due pistole Quasi quasi Allora mettiamo Ma no ma che schifo gli arcieri su sto gioco Sì la cosa Sì gli arcieri su questo gioco Vivi deve essere contrariano sempre Nel frattempo Este è cresciuta bene devo dire Cioè ok lei sta a più di 10 su tutto però A lei manca difesa Ma la che ti puoi sei proprio da Deriva da lei Eh sì Certo Niente vedendo Este mi è venuto da ridere E' un manx E va bene Cioè E' fatto lui con Este Perché scusate? Allora 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 raccontiamo Allora Ehm Praticamente Stavo cercando i crimini di manx Su Ehm Su internet Ok Su Google proprio? Sì sì su Google Ah ok Perché praticamente Mi stavo chiedendo ma perché Cioè ci stavamo chiedendo Il gruppo Ma perché la gente da del Nazista Max Sì da del nazista Ma inizia si è recuperato Ehm 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 Proprio sui coglioni La fleccia Eh sì E questo qui subito Balsamo Ma che è sta cosa? Balsamo Balsamo Oh Ehm 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 Praticamente Quindi ho googlato E se googlate Una delle prime cose che mi è uscita Che mi è uscita È una tesi di laurea Praticamente Cioè Come lunghezza È più di una tesi di laurea Qualcuno ha dedicato tempo All'axilirete Un intero pomeriggio a scrivere O che intendi? Ehm Secondo me giorni Perché Se vai sulla wiki Di advance wars Ah mica C'è Ti giuro No Adesso Mi fate la reaction Cioè Mentre Davio gioca Tu Davio purtroppo sei escluso Però Io mi petro Mi dice Se quando farà la tesi Secondo lui Sarà così lunga Ehm Cos'è Ehm Aspetta Oh ma quanto Advance Ecco qua Poi a Johnny Petro Mi fa la reaction A questa cosa Ma che fai Me la mandi in chat? No no Te la mando Sì te la mando in privato Che cazzo Dimmi Mandate un gruppo Così poi posso vedrlo Anch'io No Mando anche a te What Perché il contenuto di Max Non è benvenuto Sulla wiki Di advance wars Oddio Vabbè Lascia stare Perché Max Ha fatto video anche Di advance wars No no Lo so Sì ma Scorri soltanto Per vedere quanto è lungo Ok vediamo E dimmi se tu pensi Di fare una tesi Così lunga Ok Ma deve essere coperto Questo argomento Sì sì ma non leggere Cioè Cioè dico Prendi La barra a destra E scorri Ok Esperienza personale Già lunghissima Minchia Ma tipo 20 paragrafi Solo su quello Anime North Sessualmente ha salito Una donna Nel suo sonno Nel suo sonno L'ha sfruttata E manipolata In seguito Comunque WSSB Tipo quando Saber fa il critico Sembra che Fa Sì L'animazione Il critico Qui è proprio Non so se sto giocato A A Come si chiama A 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 Io ho giocato Eldar Ring Quando Sempre fa l'animazione L'esperto Di Cioè Malenia No Quando fa l'animazione Del critico Fa la Forse Del Pot Ah Del Vapso Famoso Ma porca Misera Lunghissima Ma Quello è solo su Advanced Wars Poi c'è un'altra Che ha fatto Tipo Ha fatto Tipo Un mega documento Tipo Quelli che faceva Paco Super Super Perché Chiamando a Manx Misogino Solo perché Odia Est No No È sempre Lui Questo qua C'è un paragrafo Alla fine C'è un paragrafo Alla fine Dove c'è scritto Che Manx Cose C'è Uno dei suoi Crimin È Odiare Est Pensa un po' Prego Perché Non può Odiare Est Ti prego Johnny Petronell Leggi Verso Proprio alla fine C'è Bonus Manx Vs The Magikarp Power Troupe Oddio Lì Ok Devo andare Ok Raducicelo in italiano Ho capito bene Magikarp Magikarp Sì Hai capito bene Do un attimo Trovarlo Me lo rischio di perdere Tutti sti paragrafi Bobo la fine Sì lo so Ma il cazzo Il titolo qua Si confonde Con i paragrafi No ragazzi È troppo lungo Infatti L'ho saltato Il titolo Ti pareva Ok Riesci a Riesci a tradurcelo in italiano Mentre lo leggi Vai Vai C'è un discorso Di come mi sono ricordato Quando scrivevo Questo post generale Ma nel giorno In cui ho iniziato A scrivere questo Mi ricordai Ed è un qualcosa Di così banale Su Manx Che merita La sua propria sezione Potreste non pensare Altrimenti Ma qui ci sono Appare Due Entrate innocue Apparentemente Apparentemente innocue Sul Vanilla TV Tropes Page di Manx Che non è messo Sotto lo scrutinio Di quel stito Che Dice di essere Contro il trattamento Mal Malvagio Delle donne Vabbè È tipico A Manx Non piace La Trove Magikarp Power Cos'è la Trove Qualcuno che ne sa Di Pokémon Cos'è la Magikarp Magikarp Magari perché Magikarp All'inizio è debole Sì E poi diventa Non c'è Non c'è niente Ah Magikarp 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 È il pesce Ah il Pokémon Ah capisco Tipo un Pokémon Che inizia scarso Ma poi diventa forte A me risultava Che rimanesse scarso Però ok Unperson Rivolgere Di ammettere che Est esiste Fino al punto Di ammazzarla In Shadow Dragon E a non recrutarla In Echoes Vabbè È sempre opzionale Sì Stando a parte La Magikarp Power L'odio del Magikarp Power Già mi offende L'intero L'intero punto Della Magikarp Power È mostrare Che le genetiche E altri A vantaggi simili Oddio È difficile A tradurre O tra l'altro Piccolo dettaglio Ci siamo tolti di mezzo Il cantore Dell'altra volta Meno male Vuoi criticarlo Vabbè Devi finire di leggere Quella cosa Il potfre Il potfre Che cazzo Guardando il dialogo Di Est Non mi pare Sul livello Di Maya Faye O Athena Sykes Da Ace Attorney Che cazzo C'entrano Nel senso Che non è Caratterizzata Cioè Allora Non è caratterizzata No così Li conosco I personaggi Non c'entrano niente Con Est Ti spiego Quello che Sta cercando di dire Praticamente Sta dicendo Che Manx È una persona Brutta e cattiva Perché Lui tratta Est Come se fosse Solo Cioè Allora Lui tratta Est Solo come se fosse Carne da canzone Di Fire Emblem Ok E non considera Il lato emotivo Di Est Non considera La sua personalità Eccetera Il lato emotivo La sua personalità È stupida Il fatto che ha cucato La sua sorella E che per colpa sua Avere morto Certo Sì No no Sì Io non mi spiego Perché sta gente Appunto Io mi chiedo Ma non è La mia questione La mia questione Però Il tutto Penso Cioè Questa è la mia Interpretazione Penso che sia Un modo Per Sottolineare Che Manz Non guarda Il carattere Nelle donne Ma Per lui Sono solo Dei corpi Che si usa Perché lui Perché lui Non apprezza Est Ma Ma Sto Poi Non c'è una ragazza Oggigiorno Con cui va Perfettamente D'accordo Ma Quella È un Un fricchi Di merda Non ha mai Toccato Pasto Madonna Ma si vede Ma proprio esce di casa Almeno Non credo Una cosa incredibile No Non posso leggere altro È troppo confuso Parla di un fottio di roba Che non c'entra Ah Che comodo Perché poi Cioè Il Il Kate Verso Est Ci sta Non è Non è Non è Né il primo Né sarà L'ultimo Conosco Tanta gente Che odia Proprio Est Per come È nel gioco Per quello Che fa Dopo Quello Che fa Dopo Dopo Quando Guarda Io odio Tantissimo Shadow Dragon E Mystery Però me lo son giocato Quindi ho letto Tutti i supporti E se tu leggi Quello che fa Cioè Lo puoi Anche fare Adabio Se fa il supporto Tra Palla E Est Est Dopo che Allora Alla fine Di Shadow Dragon E Palla E Come si chiama Palla E Aver Sì Si Innamorano Però Este Abel 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 Ok Dai No Infatti Però qui Potete vedere Che Menziona Abel Vedi Anche Anche Farmare Cioè Questa è la dimostrazione Che farmare Non serve Se giochi di merda Cioè Allora Ok Tanto Ma comunque Andate avanti Con sto discorso Diablo Sì Davvero Eh scusa Davio Non è per essere Offensivo Però non puoi Lanciare Ci ho provato E Davanti Eh vabbè Cioè Apri la porta Prima Allora La porta si apre Da qui Ci mando solo Saper Tanto Vabbè Dicevo Cioè Palla Abel E in Shadow Dragon Sono innamorati Però anche Essere Innamorata D'Abel Cosa fa Est E Praticamente Seduce Abel E praticamente Abel Rompere Con Palla E si mettono insieme Palla E S Abel E ciò lo si capisce I sostegni New mystery Sì Ci sono i sostegni New mystery No in questo gioco In questo gioco Però Io dico Del Del DS Ci sono i sostegni Sì Sì Ok Oh no Ne l'ho shottato Oh dai Vai quanti Voglio sentire Beh Vabbè Comunque Il fatto Che Es La ritrovico Incarcerata Perché Diciamo Che si era Un po' Noiata Ed è andata A cercare Avventure No Avventure Ma dai Sì Infatti Mi sembra Che l'avesse detto Che erano partite Loro due Solo per Est Potrei sbagliarmi Erano partite Per cercare Est Sì E Non è normale Che qualcuno Di lei Sì Vabbè Ma non pensi No Vabbè La gente L'odia Perché è una unità Di merda La gente L'odia Per la sua personalità Stupida Per quello che fa Nel lore del gioco Ma non è Max non è L'ultimo Ne sarà Né il primo Anche se Anche se Anche se Nella comunità Di Heroes La odia Perché è Veramente inutile Benvenuto Freccia Ok Ciao Stiamo parlando Di Est Di com'è La comunità La odia Ma Ha fatto Ha fatto Senti Ma ti hai messo Il soldato di Ardesia Ti hai messo Eh Qua su Videostream Il soldato di Ardesia Vabbè Adesso Non vai il critico Aspetta Ed of Videnacoffus Aspetta Ah Sei diventato come me Quando non serve Non ce li hai Aspetta un attimo No Tu fai il crit Quando è carino Perdi l'unità Forti No Faccio anche il critico Quando non serve più No Il critico è carino Il critico è carino Procede a far morire Teodoro No non era Teodoro No era Cristina No ma anche nella nave dei pirati l'ha fatto Ah tutti sono morti in modo diversi Non me li ricordo neanche più No Cristina poi ha resettato Sì lo so Però Ha resettato Però Teodoro è morto Non ha resettato per Teodoro Ha resettato solo quando è morta Teodoro Vuoi chiesimarmi? Comunque freccia mi ascolti Oh la prima volta che manca un pantano Sì Davio benvenuti nel club finalmente Chi ci è voluto Cioè Schivare il pantano è bellissimo Quello l'ha colpito entrambe le volte Davio mi sa che stai godendo un po' Ad aver promosso Sailor Leggermente sì Vedi Prima era inutilissimo Vai in strada Vai che vignore Oh il fantasma critta Incredibile Non ha crittato Non ha crittato Ho solo ucciso Comunque freccia Ho finito il guide Tutto a posto? Sì Peccato che non sono riuscito a prendere la merne Tu o me non sei riuscito a prenderla Perché mi mancava un turno Stava andando tranquillo E il boss del guide Il capo dei ladri Ha caricato contro Wolfgang Wolfgang l'ha crittato È andato con Wolfgang 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 ha chiestato Wolfgang Il capo dei ladri L'ha fatto il rallenty apposta Sì Il 3DS Madonna Mi dispiace Ma l'altro c'è este? Eh li ho presi tutti Ma anche un'ultima cesta In cui penso si Era la merne Che sfiga oh L'ultima cesta Vabbè almeno Tanto Peccato Proprio Sfiga Vabbè Capita nella Nella vita Capita Comunque non Wolfgang con quell'arma Non sembra che ha solo 20 di critico Sembra di più È perché l'arma dà più critico Ma l'arma ti dà 20 di critico se non sbagli Lui ha il boost della glass In più 20 critico Poi tanta skill Poi l'arma quando inizia più critico Tanto critico sì Quando inizia è mostruosa Mostruosa Ma puoi dare anche a Nero l'arma se vuoi No ma Nero sta a posto con l'Apollo Che gli dà speed Eh peccato Vabbè 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 A parte che l'ho consumata troppo Penso l'arma di War Io l'avrete a notare come nuova Nonni Io ti dico Io ti dico Beato tu che soghi una modalità normale Beato tu Keenard sesti morto Perché 4-4 Capitolo 4 Parte 4 È un incubo Tu l'hai creato Lo so Per questo dico un incubo Per questo ti dico L'ho fatto io Fidati Ma è il incubo per il brutto design O perché No Difficile Difficile Cioè A parte i bug grafici Che penso per gli risulti Penso Spero C'è tanta roba Tanta roba potente Non mi ricordo Il bug grafico era quello dove Non mi devono Vedi i negri Ti ricordo Ah vero Vedi i negri Sì Ah vero Dove c'erano i quadrati neri Sì Mi stavo un attimino preoccupando Freccia cosa hai creato Allora Ti spiego velocemente Sono tutti i nemici Nello schermo A un certo punto Ed unità nemica Sono diventati quadrati neri E i personaggi Sono diventati dei poligoni Con le lettere Troppa epichiness Troppa epicità Non c'era baseva il gioco Antonio era la tua Influenza ispanoblante O che cacchio E ma l'ha detto Freccia No L'ha detto lui No No è quello che è successo davvero Io non capivo niente Sì sì confermo Funio testimone Anche vivi sera Non mi ricordo Se sera vivi No non c'era No non c'era In quel capitolo Mi è morta La spadacina tetona E la Eusgrega La spadacina tetona L'avrai più avanti Nel gioco L'avrai Non ti interessa però L'avrai Se ti interessa Non ti interessa Però Finché è reclutabile A differenza del brigante Nel capitolo 1-5 Eh sì No sì è reclutabile E niente Bug grafici Si impara tanto Non sarà bello Rigeare l'arc di Freccia In un'arità difficile Nel mio compito libro No no Tu non ce la fai Tu non sai Il capitolo Gaiden Che ha fatto lui Era proprio Ho fatto una cagata Quel capitolo Ho fatto una cagata Oh mio dio Davio Che level up perfetto Perfetto Guarda almeno ho preso attacco Mi sta bene Eh dai Io ho preso Freccia Finché non hai l'Igor Spear Tutto è possibile Eh Dipende anche Cosa devi fare Lo doppia? Oh doppia L'ha colpito E un altro Se ne va Che oggi Distruggiamo Aspetta ma questa è un po' La mappa di ieri Eh eh Di ieri Una settimana fa Oh critico Che comodo Ah quasi Uh comodo Bello Ah incredibile La distruggiamo sta mappa Che mappa Dai 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 Finalmente hai dell'unità Ma i miei conosci I fantasmi Sono bugati i fantasmi I fantasmi prima Stavano schivando tutto Quindi Forse sono bugati Forse no Non mi interessa Finché Sovravvivono Guarda Curo pure Mei Ma qui sono arance Sono Sono cassetti d'arance Tanto quello lì Alla dea gli piace Essere offerta frutta Quello lì ci arriva Jenny però Cercheremo di evitare problemi Tutto ciò ragazzi Non giocate mai Non giocate mai A Shadow Dragon Piuttosto giocate La La GPA Ah Perché Shadow Dragon no? Fa veramente cagare Capisce Io Ci ho provato Solo una volta No In realtà Ci ho provato Più volte A giocare A Shadow Dragon Non sono mai riuscito Ad andare oltre A Un certo capitolo Cioè Credo Di essere arrivato Di qualche periodo 4 E poi Non ci riesco più A continuare Vabbè se va male Torno indietro Tanto Almeno E vabbè Ha scelto Le scorte Io non potevo Saperlo Vai Fai come prima Magari No Vabbè Migliore Di questo gioco Altro che Guarda qua Tanto Es Per A Fulminalo E per quello lì Andiamo diretti Ma quanto è bello vedere Questa mappa Che finisce così E' stupendo Ma gli altri? Scusate un attimo Ok Siamo tornati con la registrazione Il mio pc è impazzito Leggermente però Capito Io non vedo l'estremità Davio Davio appena aspetti di sentire Le nostre voci angeliche Vuol dire che c'è qualcosa che non va Sto cercando di mettere No Dario Non è caricato abbastanza il 3ds Sto cercando di far partire lo stream Non l'hai fatto abbastanza critica Vabbè Allora L'app di Discord Sul 3ds Sì Purtroppo Discord non gira bene sul 3ds Allora Selica e Mei stanno parlando E Mei sta dicendo Molto interessante Cioè Mila non può mica vivere in un posto come questo E che è deserto? Non lo so Andiamo a vedere con i nostri occhi Dobbiamo scoprire cosa è successo E non possiamo vedere Nei nostri occhi Vabbè Ve lo devo leggere Hai ricevuto il trofeo Per la gloria di Mila Per aver liberato il tempio di Mila Dall'impero ingheliano Salve Alla tram Ho sentito Per l'imperio ad estri Ecco qua Ardesiano Comunque siamo sulla mappa Quindi Potremmo anche finire il video qui E anzi io chiederei di finire il video qui Ma sì Ti diamo un'opportunità la prossima volta Così la prossima volta possiamo esplorare l'interno del tempio di Mila Promuovere Selica Reclutare un uomo Tutte belle cose E il frattempo si è finita la mappa Urra Urra Che bello Davo Per il tempo di Selica ti aspettano paludi Vero paludi vuote Pantani Ma i pantani Span proprio Vabbè almeno avremo I pantani sono piccari Non li vuoi vedere Saber Dreadfighter Guerriero magico Leon anche promosso Quindi Leon promosso Quindi anche i pantani Potremmo affrontarli Ma quindi E' sembra di estremare Sì Adesso Se volete fare questi saluti Vabbè Alla prossima Alla prossima Ok alla prossima Ciao Ci vedremo Alla prossima